Il progetto Giovani Informati, promosso dal Consiglio regionale della Basilicata e giunto alla quarta edizione, si consolida sempre di più e vede la partecipazione attiva e appassionata degli studenti degli istituti superiori della Basilicata. Tanti lavori prodotti e soprattutto tante le riflessioni e le domande poste ai rappresentanti delle istituzioni. Un pungolo per fare di più e meglio per i futuri protagonisti della vita sociale e politica della nostra comunità. La nuova classe politica, la nuova classe dirigente sono loro. Se le istituzioni in questo momento stanno per o colmano anche un gap, una mancanza che in precedenza ci poteva essere stata, con questi progetti, col progetto Giovani Informati, indubbiamente stiamo cercando di predisporre questi nuovi giovani ad affrontare le scelte e le sfide del futuro in maniera adeguata. Loro fungono da pungolo per noi e noi dobbiamo fungere da pungolo anche per loro, dobbiamo stimolarli affinché loro possano essere già preparati perché la conoscenza, l'informazione, la professionalità è un 50% di successo. Il successo che già avviene in questa regione attraverso tanti esempi che abbiamo, dove siamo primi in Italia e non certamente come regione la cenerentola di questa nazione. Proprio per questo motivo noi vorremmo e dobbiamo continuare a fare da pungolo anche noi e benvenga il pungolo che loro fanno attraverso le domande, sollevando una serie di problemi nei quali sono stati sollecitati attraverso questi progetti.